Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra Regione, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per la presa in carico del paziente positivo o sospetto covid, ma alcune sigle sindacali non hanno firmato l'accordo e questo avrebbe potuto comportare dei problemi per i pazienti. A quanto pare però il problema riguarderebbe in città soltanto un paio di medici che comunque potranno essere sostituiti dai colleghi. Al di là delle polemiche che erano sorti da parte di qualche sindacato minoritario, ma questa non è una realtà locale, è una realtà che si può individuare su bare città. A Bitonto non abbiamo questi problemi. Nel caso in cui ci dovesse essere il collega, non è nelle condizioni di farlo, a livello di distretto ci si organizzerà in modo tale che i suoi pazienti possano essere sottoposti, sempre a tampone, rapido, gratuitamente, di messa a disposizione dal distretto con dei colleghi che lo potranno fare al suo posto. Il protocollo firmato prevede che i medici e i pediatri di libera scelta prenderanno in carico il paziente con sintomi covid, potranno prenotare il tampone molecolare tramite piattaforma informatica, eseguire tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici dopo dieci giorni di quarantena e disporre l'isolamento fiduciario ad esito positivo del tampone, stabilendo la data di inizio e fine della quarantena. Si utilizzerà anche un modello di assistenza territoriale che utilizzerà la telemedicina. I professionisti garantiranno le loro cure presso i propri studi o in altre strutture, ma è stata potenziata anche l'assistenza domiciliare. Ci sono state 400 domande di colleghi che vogliono partecipare, per cui da un punto di vista gestionale non c'è più il rischio che non ci sia una risposta clinica a domicilio del paziente. E questo comporta che se il paziente è trattato a casa dal medico di famiglia, con il collega che va a casa e va a monitorare dal punto di vista dei parametri vitali, starà a casa fino a quando c'è la risoluzione dei sintomi, oppure avrà l'indicazione a ricoverarsi se praticamente il quadro clinico precipita. A Bitonto la somministrazione dei tamponi avverrà presso la Casa della Musica, nella zona 167. Il Comune ha messo a disposizione sia la struttura che il personale di segreteria, grazie ai beneficiari del RED, ma anche un servizio di sanificazione organizzato grazie ad un partenariato tra pubblico e privato. Siamo pronti, abbiamo messo a disposizione le sale interne e anche uno spazio esterno, attivo alla zona interna, sanificazione, segreteria organizzativa e accoglienza per la sicurezza. La fornitura dei tamponi sarà a cura del commissario straordinario per l'emergenza Covid per tramite della protezione civile regionale che fornirà anche i necessari dispositivi di protezione ai medici. Ma questi sono spaventati e sperano che la fornitura dei kit non sfori nei tempi come lo è stato per i vaccini. È tutto un punto di interrogativo, sia sul quantitativo, cioè quanti ne avremo, perché parli che ne avremo pochi, che il tempo, cioè quando li avremo, perché è una cosa di parlare adesso, se facciamo come i vaccini che si è passato a tre mesi non li abbiamo avuti, e andiamo dall'anno prossimo per fare i tamponi, perdiamo moltissimo tempo. Grazie per la visione!